Allora, videoudo 1 per usare fotopea.com www.fotopea.com è un programma molto semplice qualcuno diceva che non c'era bisogno di un corso per impararlo perché giocandoci un po' si può arrivare a conoscerlo però facendolo insieme in un laboratorio come questo potremo imparare un po' di cose nuove quindi quando entriamo in fotopea a parte che possiamo sganciarci un'immagine con la copia in colla però possiamo creare un nuovo progetto il nuovo progetto lo prendiamo ad esempio su... vediamo se c'è qualcosa per esempio questo questo è un progetto di fotopea dove c'è un'immagine e delle scritte ora, le immagini come avrete già un po' capito quindi magari facciamo un chiudo di altre schede andiamo in fullscreen così vediamo solo questa allora, fotopea intanto ce l'abbiamo l'account io ho pagato ho pagato perché così non mi fa vedere la pubblicità no ads mi dà tutte le caratteristiche comprese quelle AI e quindi posso fare delle cose abbastanza sofisticate non è necessario pagare e se partecipate a questo corso potrebbe essere una buona idea anche solo perché è un prodotto di qualità molto alta in pratica realizza Photoshop senza pagare o comunque pagare pochissimo ok, quindi fotopea fotopea per gli anglofoni noi la chiameremmo fotopea adesso in poi ha questa interfaccia che è molto semplice in alto abbiamo questi dati questi sono i soliti file, modifica, immagine se non li vedete in italiano e volete vederli in italiano andate su altro e con clicca vedete che avete l'opzione italiano, inglese o altre lingue a questo punto tutte le immagini sono concepite come in Photoshop quindi hanno un PSD che è il formato di default con cui funziona Fotopea e la cosa fondamentale è che possiamo lavorare sull'immagine con una paletta di comandi che ci permette di mettere delle scritte di selezionare di selezionare con l'Aso di fare delle decrop insomma di fare un sacco di cose comunque per lavorare sull'immagine occorre capire che l'immagine è costituita da un insieme di layer che sarebbero come fossero con i fogli di plastica trasparente ognuno di quali praticamente porta un contributo quindi se il contributo si può vedere o non vedere cliccando sull'occhio quindi Is This Real Life è il layer che contiene quella parte lì che è appena sparita Is This Fantasy è questa la bar conterrà probabilmente solo la bar lo strip è un tipo di layer che scurisce l'immagine infatti se noi non togliamo la visibilità di questo layer vedete che l'aver messo il layer è semplicemente un'opacità che è il 25% invece togliendola vediamo l'immagine pura e l'immagine pura è il nostro background quindi normalmente le immagini più semplici sono composte da un solo layer e il layer viene chiamato background tra l'altro il significato adesso togliamo la visibilità di questo e vediamo solo questo vedete che ci sono questi quadratini a scacchiera che vogliono dire fondamentalmente che è trasparente cioè la bar questa bar è visibile e tutto il resto è trasparente quindi potremmo mettere la bar ovunque in qualunque altra immagine il risultato dell'immagine è la sovrapposizione di tutti i layer quindi i layer sono fondamentali per visualizzare un solo layer basta premere alt quindi facendo alt background qua vediamo solo il layer il background se invece clicchiamo semplicemente il layer si aggiunge quindi questo is this real life strip questo permette praticamente di scurire l'immagine quindi è un layer di regolazione molto semplice e facciamo anche cancellare tutti i layer quindi andiamo qua e facciamo semplicemente cance quindi cancelliamo tutti i layer e teniamo soltanto il background quindi un'immagine molto banale questa ora giochiamo un pochino sui strumenti gli strumenti abbiamo il movimento che è il default questo che sarebbe il V quindi se noi proviamo V andiamo direttamente lì questo è lo strumento di selezione quindi possiamo selezionare e vedete che ci fa vedere la selezione 278x163 quando abbiamo selezionato rilasciamo e possiamo fare anche il crop quindi vediamo solo cosa succede quindi se facciamo il crop c'è questo crop in alto compare le caratteristiche del comando che stiamo facendo quindi questo è un crop possiamo anche alterare il crop in modo tale di inquadrare proprio solo la scritta Hamburg Sud quando siamo contenti del crop facciamo il ok questo e quindi a questo punto abbiamo praticamente dovremmo qui c'è un pezzo ok vediamo un po' se ce la facciamo togliamo togliamo ok facciamo l'ok niente quindi il crop è questo template è libero addrizzato facciamo un un ok ecco che io ho croppato Hamburg Sud che è soltanto la parte dell'immagine per tornare indietro facciamo CTRL Z e torniamo all'immagine originale quindi abbiamo visto il crop abbiamo visto queste parti abbiamo visto come selezionare tra l'altro tenete conto che per quando c'è questo questo quadratino in fondo basso a destra vuol dire che si può selezionare in vari modi per vedere quali sono basta tenere premuto il tasto sinistro del mouse e quindi facciamo tenere premuto e vediamo le due selezioni rettangolare ellittica quindi possiamo fare ellittica e possiamo nella selezione fare deseleziona questo possiamo fare anche CTRL Z per tornare indietro ok ok quindi vedete che la selezione è sull'ellittica quindi vuol dire che possiamo selezionare in maniera ellittica così e possiamo modificare la nostra selezione oltretutto quando si fa una selezione si può migliorare il bordo della selezione quando facciamo migliora bordo allora ci fa vedere la nostra selezione e nella nostra selezione possiamo aggiungere delle altre parti vedete che abbiamo aggiunto altre parti all'immagine oppure il code mi sembra con CTRL possiamo sfumarla ecco adesso sta aggiungendo ancora se premiamo su nero togliamo quindi praticamente selezioniamo le cose che vogliamo togliere dalla nostra selezione e vedete che ci seleziona solo il pezzettino che gli diciamo qui diciamo quanto è il contorno quindi possiamo avere un contorno un pennello praticamente più o meno grande quindi facciamo il pennello 1 che è molto fine e poi con il nero praticamente andiamo a togliere degli elementi della selezione oppure con il bianco andiamo in realtà ad aggiungere elementi alla selezione in questo modo vedete che possiamo aggiungere col bianco tutta questa parte oppure possiamo anche facciamo ctrl z andiamo al contorno precedente e possiamo aggiungere in maniera sfumata quindi in teoria dovremmo poter dire grigio e poi aggiungere praticamente questa parte che è più grigia e vedete che la aggiunge in maniera sfumata quindi il contorno può essere fatto anche in maniera sfumata ora è complicato tutto se fatto bene comunque si può fare un livello nuovo si possono fare oltre ai livelli quindi livelli normali livelli di regolazione che vediamo quando andiamo su livello possiamo fare nuovo livello lo dice qua praticamente livello di aggiustamento i livelli di aggiustamento sono dei livelli che praticamente alternano senza modificare l'immagine e quindi possiamo per esempio mettere un livello che cambia la luminosità e il contrasto vedete che è stato aggiunto questo livello e possiamo mettere che lo faccia più luminoso o meno luminoso solo della selezione vedete notate lì se vogliamo che facciamo escape ok e quindi se la selezione non la vogliamo facciamo selezione deseleziona e poi abbiamo ancora questo livello che però lavorava sempre sulla selezione originale quindi facciamo questo e facciamo tasto destro e eliminiamo questo livello che era fatto sulla selezione originale e aggiungiamo un livello di aggiustamento luminosità contrasto questo che però agisce su tutta l'immagine quindi se noi facciamo luminosità in un senso o nell'altro controlliamo la luminosità o il contrasto di tutto di tutta l'immagine quindi questo è un livello che altera la luminosità e il contrasto ed è molto carino ora una volta che abbiamo ottenuto l'immagine che ci interessa molto semplice possiamo salvare questa immagine e possiamo salvarlo come psd che è il formato standard di photopee oppure facciamo in altri formati che sono un po' specifici oppure esportarli perché spesso a noi ci interessa esportarli come png jpeg o altro tendenzialmente png quindi se noi facciamo png salviamo per il web salviamo il file quindi abbiamo salvato dove l'abbiamo detto ricordiamoci che se non salviamo visto che questa è un'applicazione sul web tutto quello che abbiamo fatto risulta praticamente cancellato quindi quando si usa photopee abbiate sempre l'accortezza di fare l'esportazione esporta come per salvare finalmente il risultato interessato allora come piccolo esercizio provate ovviamente a prendere un'immagine qualunque che avete sul vostro pc sicuramente ce l'avete e provate ad aggiungere un livello che amplia cioè che aumenti la luminosità e il contrasto con questi livelli che abbiamo detto che sono dei livelli di aggiustamento tra le altre cose è possibile aggiungere un livello quindi cancelliamo questo che scuriva abbiamo detto elimina ok quindi questa è l'immagine originale e possiamo aggiungere un livello che lo fa in bianco nero quindi in un livello di aggiustamento aggiungiamo un livello bianco nero e vedete che abbiamo trasformato questa immagine da com'è l'abbiamo trasformata in bianco nero non ci interessa il bianco nero basta semplicemente togliere la visibilità il che ci consente di rimuovere il livello senza però perderlo quindi in pratica è molto effettivo diciamo questa parte una cosa soltanto qui abbiamo la possibilità di vedere le caratteristiche di quello che stiamo facendo quindi con info le caratteristiche del livello le caratteristiche del pennello con cui stiamo lavorando del testo se stiamo aggiungendo del testo quindi per dire qua volendo possiamo prendere anche T e andare a selezionare una zona dove vogliamo scrivere e qui possiamo scrivere ciao mondo con la dimensione che gli diciamo quindi possiamo anche dimensione quindi questo qua quindi 50 pixel facciamo grande proviamo ancora a scrivere quindi cancelliamo ciao mondo gli mettiamo ah 36 vi ho detto che quindi cancelliamo e possiamo scrivere con 150 e qui ciao mondo e qui abbiamo il font con cui vogliamo fare quindi abbiamo praticamente il forward altri font abbiamo altre caratteristiche del font giocateci pure comunque sono in grassetto quindi per modificare questa scritta cancelliamo questo gli mettiamo questo che è sempre un font e quindi questo vedete che è in grassetto e qui possiamo anche scegliere praticamente il font che vogliamo usare i font ce ne sono veramente una caterva quindi ad esempio se noi andiamo su sax mono e poi mette sax mono lo vedete e quindi andiamo praticamente sax mono e questo è un altro font con cui possiamo scrivere quindi abbiamo visto come leggere un file cioè un'immagine come modificare come selezionare con questo oggetto con questa selezione come crearsi dei livelli e direi che in questo modo abbiamo visto le parti base-base anche l'export cioè il salvataggio dell'immagine finale e quindi tutto per questo video grazie a tutti grazie a tutti